E' stato sottoscritto mercoledì mattina a Schio un importante accordo tra il GAL Montagna Vicentina e l'ente creditizio BVR Banca Veneto Centrale, finalizzato a favorire beneficiari di bandi promossi dal gruppo di azione locale all'accesso agevolato ai servizi bancari al credito. La convenzione stipulata porta in calce le firme del presidente GAL Agostino Bonomo e del presidente BVR Maurizio Salomoni Rigon. L'accordo generale prevede l'impegno dell'istituto a valutare il ridascio di prestiti a condizioni favorevoli nella forma di sovvenzione a scadenza fissa, 18 mesi, a soggetti giuridici privati ai quali è stato riconosciuto un contributo nell'ambito del piano Montagna Viva, insieme per il nostro domani per il quinquennio 23. 27. Entro l'anno il GAL andrà ad impegnare il 94% delle risorse assegnate per la programmazione, oltre 4 milioni di euro a disposizione. Un accordo importante che segna una collaborazione volta a favorire, sono le parole del presidente Bonomo, lo sviluppo economico del territorio, una risposta concreta per sostenere le iniziative imprenditoriari e roccari che abbiano come finalità quella di contrastare lo spopolamento della montagna e di favorire iniziative economiche innovative in territori rurali più svantaggiati, insomma una convenzione importante.